Allora buongiorno, lui è Sandro, lei è sempre bianca, loro sono sempre nel gruppo, stamattina c'è area di elezioni, vediamo lì il vecchio presidente che per farsi rieleggere... Oh, la politica dopo, vai! Ecco questo è Rocco, io sono Pasquale, aspetta oh, lo spildone! Ok, questo è lo spillone, che dovevamo fare? Vai, ma lanci da te? E c'è il lanciatore ufficiale No, da solo come fai? No, ma lui è bravo a lanciare, no, ma lui è un buon lanciatore Ok, perché qui non lo stico qua, no, no, ma quanti è il passo, la via, la camminata Pronti? Fammi sentire come tira! No, no, ce l'ho, ce l'ho, vai, pronti, via! Oh, la batteria a scaria? No! No, regolatore! Pasquale, tu ce n'hai sempre uno di 104 Sì, lo facciamo E' da terra a quei ragazzi, però, se ti vediamo dalla pista Vai a terra!